la verità che tanto cercate e che credete di aver conquistato è il tipo di donna che contrariamente a quanto pensiate non si lascia affatto sedurre è ancora illibata e vergine mai si è fidanzata mai si è sposata o promessa in sposa se credete che sia un possesso acquisito solo perché con la vostra infantile immaginazione l'avete invitata ad una cena a lume di candela e poiché a cena con voi la verità non ci è mai venuta ben presto vi risveglierete dalla vostra illusione ed accadrà quando qualcuno riuscirà a scardinare le vostre ottuse casseforti dell'ostinazione risvegliando in voi anche solo un briciolo di presa di coscienza che vi rammenti chieda folli pensare di poter afferrare l'infinito e chiuderlo nella trappola delle vostre convinzioni ma a te che ti avvicini a lei con umiltà io dico non smettere mai di giocare a sedurla poiché lei si compiace nel sentirsi desiderata e tu potrai vivere in eterno nel piacere che solletica l'anima ad ogni tentativo di conquista musica musica Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.